Questa mattina tutti i ministri, con tutti i ministri siamo riuniti, non era formalmente un consiglio dei ministri, siamo riuniti tutti però per valutare un aggiornamento sulla emergenza sanitaria e ho richiesto, d'accordo ovviamente con il ministro Speranza, anche la presenza del presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, il professor Brusaferro. Ci ha aiutato un attimo a valutare qual è la situazione attuale epidemiologica, qual è l'andamento della diffusione del contagio e ci ha fornito tutta una serie di valutazioni tecniche. E' servito anche a tutti gli altri ministri per avere un aggiornamento a tutto campo, a 360 gradi, sulla situazione emergenziale. Dopodiché vi anticipo in modo molto trasparente, perché noi della trasparenza abbiamo fatto sempre la nostra regola di azione, verità e trasparenza. Un'ampia parte della conversazione, dello scambio informativo è stato dedicato al capitolo delle scuole e delle università. L'orientamento del Consiglio dei Ministri è stato quello di disporre via prudenziale la chiusura delle scuole. Però ci siamo anche detti, e l'ho chiarito a tutti, eravamo tutti consapevoli, attenzione però, su questo, alla luce dello scambio informativo che c'è stato, demandiamo al professor Brusaferro di ritirarsi col comitato tecnico-scientifico per un approfondimento specifico sul punto delle scuole, sospensione delle attività didattiche in vista della crisi epidemiologica in corso. Ecco perché abbiamo impiegato un po' di tempo. La notizia che fuoriuscita, che è stata anticipata, è stata completamente improvvida, perché non avevamo, non ci siamo lasciati con la decisione finale. Ci è arrivata questa valutazione tecnico-scientifica da poco. A questo punto, nell'ambito delle responsabilità, di quel margine di discrezionalità politica che rimane sempre al Governo, alla luce degli elementi sin cui acquisiti, tenuto anche conto che in questo momento ciascuno sta andando un po' sul territorio per suo conto, molti stanno perseguendo una chiusura sostanziale a dispetto di quelli che sono i provvedimenti formali, abbiamo ritenuto di disporre la sospensione delle attività, come ha riassunto l'amministra Zolina, sino al 15 di questo mese. lasciando ovviamente poi tutte le valutazioni, le elaborazioni al Comitato Tecnico e Scientifico di valutare nel frattempo come si sta evolvendo questa crisi e poi faremo le valutazioni finali. Torneremo ad aggiornarvi per quanto riguarda, adesso questa sera vi diamo questa notizia, che stiamo lavorando all'agremente per il DPCM con le ultime misure e torneremo a comunicarvi presto. Grazie, lo voglio firmare stasera. In questo momento noi siamo concentrati ad adottare tutte le misure per ottenere un effetto o di contenimento diretto del virus o di ritardo della diffusione del virus, perché abbiamo delle strutture ospedaliere, un sistema sanitario che per quanto eccellente, per quanto efficiente rischia di andare in sovraccarico. E questo è un problema ovviamente a cui non possiamo supplire potenziandolo in un breve tempo, perché come avrete compreso abbiamo un problema con la terapia intensiva e subintensiva, se ovviamente una crisi esponenziale dovesse proseguire.